La SOP Blaragazza e l'Ufficiale giunge alla sua conclusione, portando con sé un cambiamento epocale per Seyit. Nell'episodio finale di Blaragazza e l'Ufficiale, i telespettatori sono testimoni di una svolta drammatica nella vita di Seyit. In un gesto inaspettato, Seyit abbandona il ruolo che ha sempre interpretato nella sua esistenza per avviare un nuovo percorso accanto a Murvet, con la quale alla fine ha scelto di unirsi in matrimonio. Nel corso di questo episodio finale, l'aria si carica di tensione quando Seyit e Petro si scontrano. Il fulcro della trama ruota attorno ai problemi con gli Eminov. Dopo il matrimonio tra Seyit e Murvet, gli attriti con la famiglia, e in particolare con Emine, diventano sempre più intensi. Un episodio significativo si verifica quando Seyit decide di portare la neo-sposa a fare colazione fuori, nonostante Alia avesse già predisposto tutto in casa, creando dolci delizie anche per i due sposi. Questa scelta suscita l'ira di Emine, che si sente non apprezzata e vede sprecato il suo impegno. La tensione cresce ulteriormente quando Emine viene a sapere che Seyit e Murvet stanno pensando di affittare una nuova abitazione. Sentendosi trascurata, Emine accusa Murvet di cercare di dividerle dalla sua famiglia. Nonostante le rassicurazioni di Murvet, la situazione non si placca. Nel tentativo di pacificare gli animi e evitare ulteriori conflitti, Seyit decide di prendere le distanze da Emine e dalla sua famiglia, optando per una sistemazione temporanea altrove. Spero che questa riscrittura ti sia d'aiuto. Ho cercato di mantenere la lunghezza del testo e di arricchirlo di dettagli, rendendolo fluido e coerente. Un momento cruciale spinge Seyit a meditare sulle prossime mosse, portandolo a fare scelte significative che plasmeranno il corso della sua esistenza. Nelle ultime anticipazioni de la ragazza e l'ufficiale, apprendiamo che Seyit decide di rinunciare definitivamente al suo passato militare. Murvet tenta di mediarne la dinamica familiare, sottolineando a Seyit la sua convinzione che Emine non abbia cattive intenzioni. Tuttavia, Seyit è determinato a prendere una nuova direzione nella sua vita. Si è stancato del mondo militare e dei conflitti armati e ora desidera distanziarsene completamente. La sua nuova aspirazione è di inaugurare un ristorante, un luogo dove poter offrire i sapori autentici della sua terra d'origine. Questo spazio diventerà un rifugio per i profughi. Seyit condivide con Murvet la sua percezione che, sebbene le persone di Pera possano apparire di fidenti, esse hanno attraversato molte sofferenze e sono in cerca di una nuova alba. Murvet accoglie con entusiasmo questo progetto, esprimendo a Seyit la sua gioia per aver sposato un uomo dal cuore grande e dall'animo intraprendente. Dal canto suo, Seyit riconosce che il suo cambiamento interiore è avvenuto grazie all'amore profuso da Murvet, che lo ha reso un uomo migliore. Con questa evoluzione narrativa, la ragazza e l'ufficiale giunge alla sua conclusione. E voi? Cosa ne pensate di questo epilogo? Era il finale che vi aspettavate per la storia di Seyit? Attendiamo le vostre opinioni. Se hai apprezzato questo contenuto, lascia un mi piace e be iscriviti al canale per restare sempre aggiornato.